E' chi ci fermerà? Un evento che farà conoscere la città di Ponte d'Era nel mondo del ciclismo. I mondiali di ciclismo su strada amatori WISP che si disputano proprio nella città in provincia di Pisa per la stagione 2010. Le immagini che vi giungono vi arrivano dal centro sportivo Bellaria Cappuccini a Ponte d'Era per la decima edizione del campionato mondiale su strada amatori WISP, secondo trofeo Eco for Service. Una manifestazione svolta con il patrocinio della regione toscana, della WISP Sport per Tutti, della provincia di Pisa, del comune di Ponte d'Era e con la partecipazione del supporto tecnico della Juventus Lari, del gruppo sportivo Futura Sport, dell'AS di Leonardo e dell'AS La Rotta. Una manifestazione che si articolerà in due giorni. Queste immagini che seguiremo in questa serata si riferiscono alla giornata di sabato 4 settembre dove saranno di scena le categorie amatoriali WISP delle categorie A4, A5, A6 insieme alla quale correranno anche le donne e gli atleti diversamente abili. Siamo nelle operazioni di verifica licenza. Allora vi ricordo che la giuria è composta dal giudice di arrivo che quest'oggi saranno Aldo Bugiani, Paolo Prosperi e Vittoriano Mattonai poi invece giudici al seguito della corsa. Per quanto riguarda la categoria A4 avremo Cinzia Simonelli per la categoria A5 Tullio Cardelli nella categoria A6 donne e atleti diversamente abili la presenza di Vittoriano Mattonai per quanto riguarda la direzione di corsa è affidata a Fabrizio Bernabei, Massimo Jacoponi e Giuseppe Porciani per queste tre gare che si svolgeranno quest'oggi e che vedranno di scena gli atleti più anziani del panorama ciclistico dilettantistico amatoriale WISP quindi una manifestazione che vedrà al via gli atleti delle categorie A4, A5, A6 ed insieme a questa gli atleti donne e gli atleti diversamente abili una manifestazione che ha richiamato qui a Ponte Lera tutti i migliori atleti del mondo intanto salutiamo Jacoponi, uno degli organizzatori di questa manifestazione abbiamo visto anche Mauro Sardelli anche lui impegnato nell'allestimento di questi decimi campionati del mondo su strada amatori WISP validi come secondo trofeo Eco4Service vi ricordo che le immagini che state vedendo derivano dal centro sportivo Bellare a Cappuccini un saluto va anche a Roberto Sardelli speaker ufficiale e addetto stampa di questa manifestazione che è organizzata con il patrocinio della regione toscana della WISP, della provincia di Pisa, del comune di Pantedera e grazie al supporto tecnico della Juventus Lari del gruppo sportivo Futura Sport della S.D.I. Leonardi e dell'associazione sportiva La Rotta mentre con le immagini siamo alla firma del foglio di partenza da ricordare anche l'impegno della Tecno Ambiente della D&D di Daniese Andrea dei controlli sicurezza ambientale SRL di Mauro Giardi e compagni della Carismi Cassa di Risparmio di San Mignato SPA con le immagini siamo alla firma del foglio di partenza la prima gara che seguiremo sarà quella relativa agli atleti della categoria A4 che prenderanno il via e che dovranno affrontare 4 giri del circuito di 26 km quindi per un totale di 104 km di gara è questa la manifestazione più lunga di questa giornata in quanto le categorie A5 e A6 donne e disabili dovranno affrontare 3 giri del medesimo circuito quindi un giro in meno, 26 km in meno per le categorie che seguiremo comunque nella seconda parte della nostra manifestazione siamo alla partenza ufficiosa della gara riservata alla categoria A4 vi ricordo 4 giri di 26 km per un totale di 104 km che assegneranno la maglia di campione del mondo della categoria A4 per quanto riguarda i corridori amatori WISP quindi siamo nei momenti proprio successivi alla partenza un percorso che andiamo a scoprire insieme e adesso un percorso che attraversa tutte le zone intorno alla città di Ponte d'Era e tende a valorizzare questa città quindi partenza da Ponte d'Era passaggio quindi da Calcinaia a Bientina quindi Santa Maria Monte ritorno a Calcinaia un passaggio quindi due volte da questa località anche se in due punti diversi e poi ancora Ponte d'Era quindi un circuito che si sviluppa a nord della città famosa in tutto il mondo per aver dato i Natali all'industria del motociclismo della Piaggio che ha qui la sede che è sicuramente uno dei punti di orgoglio di questa cittadina nella provincia di Pisa lasciamo sfilare gli atleti della categoria A4 c'è chi scherza davanti alla nostra telecamera e a questo punto non ci resta che andare a seguire questa manifestazione prima manifestazione che assegnerà la prima maglia di giornata quest'oggi a Ponte d'Era nel decimo campionato mondiale su strada degli amatori Wisp con le immagini siamo passati al 39esimo chilometro la strada sale leggermente verso Santa Maria scusate verso quattro strade quindi sono in tre adesso al comando Alessandro Mandatori con il dorsale numero 7 sta facendo l'andatura poi nella seconda posizione il dorsale di gara numero 97 Attilio Cristianini e insieme a loro con il dorsale numero 45 è Paolo Fruzzetti questi atleti hanno un vantaggio di 1 minuto e 10 nei confronti del Plotone ancora questi tre atleti al comando la loro andatura non è particolarmente incisiva in questo momento ma sono riusciti a guadagnare 1 minuto e 10 secondi nei confronti del gruppo o perlomeno nei confronti di questi primi tre atleti che si sono avvantaggiati nel tratto in salita verso le quattro strade si tratta con il dorsale numero 18 di Daniele Parenti insieme a lui dorsale di gara numero 19 Massimo Lucchini e con il dorsale di gara numero 55 Stefano Caleo si sono avvantaggiati quindi possiamo parlare di tre uomini alla comando Mandatori, Cristianini e Fruzzetti allora in seguimento una terzetta di controattaccanti Parenti, Lucchini e Caleo a 1 minuto e 10 mentre il gruppo che è segnalato ad 1 minuto e 20 di ritardo quindi una situazione che ormai quando siamo alla 42esimo chilometro di gara è ancora particolarmente incerta infatti questo lasciamo sfilare questi più immediati inseguitori ed aspettiamo il Plotone che arriva in questo momento ed è segnalato con 1 minuto e 20 di ritardo Plotone allungato lungo le rampe non particolarmente impegnative ma che comunque affrontate ad un'ottima velocità come sono state affrontate verso le quattro strade hanno fatto una notevole selezione quindi il gruppo si è allungato sotto la spinta dei tre che adesso viaggiano all'inseguimento degli uomini alla comando e quindi a questo punto andremo poi a vedere l'evolversi della situazione in quanto ci avviciniamo a metà gara in questa manifestazione che di chilometri ne misura 104 e che assegnerà vi ricordo la maglia di campione del mondo su strada degli amatori WISP valida anche questa manifestazione come secondo trofeo Echo for Service e quindi il decimo campionato mondiale su strada degli amatori WISP a Pontedera Pontedera 2010 organizzata con il patrocino della regione toscana della WISP della provincia di Pisa del comune di Pontedera con la partecipazione tecnica della Juventus Lari del gruppo sportivo Futura Sport dell'AS di Leonardi e dell'AS La Rotta vediamo ancora nutrita la composizione del protone si è allungato il gruppo ma sono ancora tanti quelli che fanno parte del gruppo che possiamo definire gruppo ammiraglia in questo momento e come vediamo alcuni atleti leggermente attardati ma possiamo parlare di un unico gruppo all'inseguimento dei tre uomini al comando che sono mandatori Cristianini e Fruzzetti dei tre più immediati inseguitori parenti Lucchini e Caleo questo è il gruppo che viaggia con un ritardo di un minuto e venti anche se queste sono le retrovie del protone in quanto gli atleti della testa del gruppo sono già passati davanti alla nostra telecamera da diversi secondi e quindi questi atleti hanno un ritardo che adesso è vicino a due minuti nei confronti della testa della corsa e mentre con le immagini lasciamo proprio sfilare gli ultimi atleti del gruppo vi ricordo che questa manifestazione si avvale del contributo della Tecno Ambiente SPA della DND di Daniese Andrea della controlli di sicurezza ambientale di Mauro Giardi e della Carismi Cassa di risparmio di San Mignato con le immagini siamo passati al 55esimo chilometro di gara siamo nell'attraversamento di Santa Maria Monte proprio sul culmine della breve salita che porta in questa località sono in due al comando Roberto Rosati dorsale di gara numero 108 insieme a lui con il dorsale di gara numero 46 Maurizio Giorgi questi due atleti arrivano in questo momento al passaggio da Santa Maria Monte nel centro di questa località e danno un vantaggio di un minuto e dieci nei confronti del plotone quindi sono stati ripresi coloro che avevano animato la parte iniziale di questa manifestazione mandadori Cristianini e Fruzzetti sono stati ripresi anche gli immediati inseguitori che avevamo visto in precedenza quindi da ricordare anche il gesto atletico di Parenti Lucchini e Caleo adesso Roberto Rosati e Maurizio Giorgi sono sulla testa della corsa con un vantaggio di un minuto e dieci nei confronti dei più immediati inseguitori segnalato il gruppo all'inseguimento di questi due atleti quando ormai siamo sulla discesa che porterà gli atleti di fuori della località di Santa Maria Monte continua l'azione dei due atleti al comando ancora ottimo l'accordo tra questi due corridori lasciamo sfilare per attendere il gruppo proprio nel tratto in discesa che arriva velocissimo con un minuto e dieci di ritardo il plotone in questo momento lo vediamo allungato un po' dal tratto in discesa un po' dall'alta velocità che stanno tenendo i concorrenti sulla testa del gruppo gruppo che però accusa un ritardo come vi ho detto superiore al minuto primo un minuto e dieci secondi quindi quando siamo a circa 50 km dalla conclusione il gruppo deve necessariamente cercare l'inseguimento perché la coppia alla comando ha davvero un ottimo accordo e quindi potrebbe diventare anche importante questa azione adesso c'è intanto ancora il plotone che sta cercando l'inseguimento siamo tornati in pianura il gruppo viaggia ad altissima velocità all'inseguimento di Roberto Rosati e Maurizio Giorgi vediamo che adesso c'è una fase di controllo c'è un tratto di pianura siamo al termine della discesa quindi un tratto dove gli atleti stanno cercando di riorganizzare l'inseguimento c'è un atleta che però prova ad evadere siamo adesso in località Monte Calvoli prova ad allungare dorsale di gara numero 101 di gara Giovanni Ruscillo che guadagna qualche metro nei confronti del plotone tenta quindi l'inseguimento solitario nei confronti dei due atleti alla comando vi ricordo che davanti troviamo ancora Roberto Rosati e Maurizio Giorgi quando sono stati percorsi ormai 60 km di gara in questo momento Giovanni Ruscillo che sta cercando tutto solo di riportarsi sui due atleti alla comando è davvero ottima l'azione del corridore con il dorsale di gara numero 101 davvero un'ottima azione la sua vi ricordo che stiamo seguendo la categoria A4 nel decimo campionato del mondo su strada Amatori Wisp secondo trofeo Eco4Service vi dicevo ottima l'azione di Ruscillo ma il gruppo in questo momento come vediamo dalle immagini allungato grandissima velocità tenta di chiudere quindi si riporta compatto all'inseguimento dei due atleti alla comando Roberto Rosati e Maurizio Giorgi che però hanno perso qualcosa adesso in questo tratto e quindi potremo assistere ad un rimescolamento delle carte nel tratto finale di questa manifestazione e siamo adesso proprio a due chilometri dalla conclusione e resistono ancora alla comando Roberto Rosati e Maurizio Giorgi nonostante il forte inseguimento del plotone che si è portato si era avvicinato qualche chilometro fa adesso invece continuano a spingere insieme i due corridori che stanno animando questa manifestazione ormai da metà gara e quando ci avviciniamo alla finale a questo punto la macchina del direttore di corsa e del cambio rota alle loro spalle indica che il vantaggio è di quelli importanti e quindi ormai possiamo definirli imprendibili saranno loro due che si giocheranno il successo in questo decimo campionato mondiale su strada Amatori Wisp secondo trofeo Eco4Service organizzato con il patrocinio della regione toscana della Wisp della provincia di Pisa e del comune di Ponte d'Era e con la collaborazione tecnica della Juventus Lari del gruppo sportivo Futura Sport dell'ASD Leonardi dell'associazione sportiva La Rotta ed il contributo di Tecno Ambiente di D&D di Dagnese Andrea controlli di sicurezza ambientale di Mauro Giardi Carismi Cassa di Risparmio di San Mignato ormai siamo nel tratto finale ci stiamo avvicinando a Ponte d'Era siamo ormai in vista del cartello che segnalerà l'inizio dell'ultimo chilometro fase di studio tra i due corridori alla comando tra Maurizio Giorgio e Roberto Rosati che a questo punto imprendibili per il plotone stanno cercando di studiarsi in vista di un eventuale arrivo in coppia e entriamo in questo momento nell'ultimo chilometro quindi sarà un arrivo a due a scanso di un attacco nel finale per questi due atleti adesso andremo a vedere il finale ancora davanti con il dorsale di gara numero 108 Roberto Rosati in seconda posizione Maurizio Giorgi queste sono le posizioni quando ormai siamo ad 800 metri dalla conclusione quindi ci attenderà verosimilmente uno sprint a due a meno che come vi ho detto nessuno provi ad allungare nel finale adesso ci portiamo sotto lo striscione di arrivo stanno arrivando in questo momento i due atleti a una volata a due lanciato lo sprint in questo momento vediamo la casacca di Maurizio Giorgi della Falaschi ciclopoint che è sulla testa della coppia e sembra in grado di andare a vincere in questo momento Maurizio Giorgi va a vincere conquista la maglia di campione del mondo della categoria A4 amatori Wisp quindi un bel successo davanti a Roberto Rosati del Veloclub San Vincenzo queste le prime due posizioni adesso attendiamo l'arrivo del Plotone per darvi anche gli altri concorrenti che si sono classificati alle spalle dei primi due arriva adesso una coppia è quella formata da Roberto Mattei che si classifica in terza posizione e Stefano Caleo che giunge in quarta posizione adesso un folto d'appello di una decina di atleti porta a conclusione la prova quindi saremo in grado di darvi l'intero ordine d'arrivo dei primi dieci classificati in questa gara riservata alla categoria quattro valida come decimo campionato mondiale su strada amatori Wisp in quinta posizione Giuseppe Di Sciorio in sesta Massimo Lucchini settimo è Erasmo Camarone ottavo Angelo Maggiani nono Roberto Gianni e in decima posizione Giovanni Ruscillo quindi si conclude la prova riservata alla categoria quattro in questo decimo campionato mondiale su strada amatori Wisp secondo trofeo Eco4Service assegnata la prima maglia in questa due giorni iridata a Ponte d'Era è appannaggio di Maurizio Giorgi Falaschi ciclopoint adesso arrivano anche gli atleti del gruppo vi dicevo è stata quindi assegnata questa prima maglia iridata e quindi un applauso va fatto sicuramente al corridore Maurizio Giorgi adesso poi andremo anche a risentire le interviste ma arriva adesso tutto il plotone vi ricordo anche che tra non molto seguiremo la gara riservata alla categoria A5 poi ancora sempre in questa nostra puntata le gare riservate alla categoria A6 dove prenderanno parte anche le donne e la categoria disabili le ultime due categorie che andremo a seguire si affronteranno sul stesso circuito che però sarà percorso tre volte e non quattro come abbiamo visto in questa prova riservata alla categoria A4 e a questo punto ormai in vista della vestizione della maglia irridata per Maurizio Giorgi andiamo ad ascoltare le interviste che ha realizzato al termine della prova il collega inviato sul posto Vitaliano Innocenti categoria A4 Maurizio Giorgi si cinge della maglia di campione del mondo Maurizio fra le tante vittorie del 2010 questa senza altro è la più bella la più importante senza altro questa insomma già la maglia ha un suo valore poi la corsa è una bella corsa organizzata benissimo dall'organizzazione quindi c'è anche più soddisfazione a vincere queste corse ecco ci speravi questa mattina quando sei partito per venire a correre qui a Ponte d'Era ma diciamo che siamo un gruppo falaschi siamo 4-5 corridori che andiamo tutti bene quindi insomma le speranze c'erano però sono corse difficili da interpretare e insomma la speranza c'era però la speranza è l'ultima a morire come si dice però insomma non è che ci sperassi più di tanto ecco in ogni modo è venuta è ben si è venuta senza altro senza altro e dopo aver assistito alla prova riservata alla categoria A4 andiamo a seguire la prova che invece vedrà di scena gli atleti della categoria A5 quindi una categoria superiore atleti più anziani rispetto alla categoria A4 che si misureranno sul medesimo circuito ma per che verrà ripetuto per tre volte non quattro in questo caso presidenza di giuria affidata a Paolo a Paolo Prosperi la direzione di corsa affidata a Massimo Jacoponi mentre il giudice di arrivo è Paolo Prosperi proprio il presidente di giuria e mentre con le immagini stiamo uscendo dal percorso e quindi ci avviciniamo alla partenza ufficiale vi ricordo che questa manifestazione sta prendendo il via la categoria A5 sta prendendo il via dal centro sportivo Bellaria Cappuccini grazie alla disponibilità di Piero Beccattini che ha voluto fortemente questa manifestazione proprio qui nel centro sportivo Bellaria Cappuccini ed ha allestito anche un po' insieme al suo staff tutta la logistica della partenza siamo ormai in vista della partenza ufficiale in questo caso vi dicevo tre giri di 26 km per questa manifestazione che vedrà il via gli atleti della categoria A5 quindi un percorso più breve il medesimo per quanto riguarda il circuito ma che sarà affrontato per sole tre volte in questa prova che si avvale del patrocinio della regione toscana della UISP della provincia di Pisa del comune di Ponte d'Era della collaborazione tecnica della Juventus Lari del gruppo sportivo Futura Sport dell'AS di Leonardi e dell'AS la rotta mentre lasciamo sfilare tutti gli atleti alla via vi ricordo che state seguendo le immagini dei campionati mondiali su strada amatori WISP a Ponte d'Era secondo trofeo Echo for Service prova questa che si è disputata il sabato sabato 5 settembre la seconda prova di questa giornata riservata alla categoria A5 lasciamo sfilare tutto il folto gruppo e mentre adesso con le immagini ci portiamo in seguito proprio alla manifestazione vi ricordo anche la partecipazione di atleti non solo italiani infatti questo è un evento a carattere internazionale campionati del mondo e quindi anche la partecipazione di tanti atleti stranieri mentre adesso con le immagini siamo al 39esimo chilometro di gara prova ad allungare con il dorsale di gara numero 7 Adriano Venturini della BD Fast poi adesso vediamo alle sue spalle dorsale di gara numero 20 per Giuseppe Cocornia che adesso passa al comando guadagna qualche metro dorsale di gara numero 20 Giuseppe Cocornia cicli Cerri Tarducci quindi qualche metro di vantaggio per lui in questo tratto in salita riesce ad avvantaggiarsi nei confronti degli ex compagni di fuga anche se per il momento il vantaggio nei confronti del gruppo è davvero minimo quindi questo tentativo di allungo quando sono stati percorsi 40 km di gara ne mancano quindi una 35 alla conclusione questi sono gli immediati inseguitori vediamo proprio con il dorsale numero 7 colui che ha proposto l'azione Venturi Venturini Adriano poi ancora il gruppo che è ancora allungato nel tratto in salita ma continua l'azione solitaria di Giuseppe Cocornia vi dicevo la sua squadra Cerri cicli Tarducci mentre adesso il gruppo prova ad aumentare decisamente la ondatura ma davanti Giuseppe Cocornia continua tutto solo la sua marcia adesso ha guadagnato e segnalato con un vantaggio nell'ordine dei 20 secondi quindi in pochissimo tempo ha già guadagnato un discreto margine di vantaggio adesso il gruppo dovrà per forza organizzarsi in quanto questa manifestazione come quella che seguiremo al termine di questa si svolge su tre giri del circuito di 26 km quindi un percorso più breve rispetto a quella che è stata la prova riservata alla categoria A4 adesso il pelotone che vediamo proprio nelle immagini viaggia allungato ma continua tutto solo davanti a spingere lo sta facendo davvero in maniera incognabile Giuseppe Cocornia d'orzale di gara numero 20 che per il momento adesso accusa un scusate ha un vantaggio di 30 secondi nei confronti del gruppo che si è comunque ridotto di unità in questo momento il gruppo conta una quarantina di unità c'è stata quindi già una notevole selezione nella gara riservata alla categoria A5 gruppo che come vediamo per il momento però occupa l'intera sede stradale a testimonianza di un'andatura che non è di quelle importanti infatti adesso torniamo sulla testa quando mancano 6 km alla conclusione e ancora tutto solo Giuseppe Cocornia continua a spingere lo sta facendo davvero in maniera ottima il corridore in casacca del team cicli Cerri Tarducci tesserato Wisp che quindi si gioca la maglia di campione del mondo della categoria A5 tutto solo continua a spingere adesso il suo vantaggio è segnalato superiore a due minuti primi quindi sta imprimendo un ritmo davvero importante Giuseppe Cocornia a questo punto ci sentiamo di dire irraggiungibile per tutti gli altri atleti in quanto ormai stiamo entrando negli ultimi 5 km di gara sullo sfondo della città di Ponte d'Era con le pale eoliche che producono energia elettrica e a questo punto per Giuseppe Cocornia potrebbe spalancarsi la porta di un successo il successo che vale la maglia di campione del mondo su strada Amatori Wisp perché è una maglia conquistata davvero con una grande azione iniziata dopo soli 40 km di gara al suo inseguimento vediamo con il dorsale numero 3 Adamo Re e poi il gruppo che accusa un ritardo che è vicino ai 3 minuti primi quindi a questo punto possiamo dirlo imprendibile Giuseppe Cocornia si sta avviando al successo nella prova riservata dalla categoria A5 un successo meritato un successo che gli varrà la maglia di campione del mondo della categoria per quanto riguarda la strada Amatori Wisp in questo decimo campionato mondiale su strada Amatori Wisp secondo trofeo Eco4Service organizzato con il patrocino della regione toscana della Wisp della provincia di Pisa del comune di Ponte d'Era siamo nei metri finali ormai per Giuseppe Cocornia Cerri Cicli Tarducci ormai imprendibile per tutti siamo agli ultimi 500 metri di gara ci stiamo immettendo nel rettilineo finale ormai tutto è pronto per celebrare la vittoria una vittoria che vale la maglia di campione del mondo della categoria su strada Amatori Wisp quindi ormai imprendibile si sta preparando ad alzare le braccia per celebrare il successo il successo sicuramente un successo importante un successo prestigioso in questa manifestazione che è organizzata grazie al contributo del tecnico della Juventus Lari del gruppo sportivo Futura Sport della S di Leonardo e della S la Rotta ormai tutto è pronto per Giuseppe Cocornia che sta entrando nella zona transennata e a questo punto per lui il successo la maglia di campione del mondo va a vincere Giuseppe Cocornia nella categoria A5 in solitaria con oltre 3 minuti di vantaggio un'azione davvero eccellente la sua un'azione brillante se ne è andato dopo soli 40 km di gara e si è fatto oltre 35 km in solitaria e a questo punto dobbiamo fargli davvero tanti complimenti perché è riuscito a cogliere un successo che vale una stagione intera una maglia irridata che vale una carriera lui l'ha colta con un'azione di quelle che rimangono nella memoria perché un'azione di queste è davvero importante quindi merita tutti gli applausi dei numerosi sportivi presenti qui a Bordostrada a Ponte d'Era e quindi adesso aspettiamo anche la conclusione c'è un atleta in solitaria che si sta giudicando il secondo posto Gabriele Romagnoli della nuova Moga si giudica quindi la seconda posizione anticipando di qualche metro il gruppo andremo poi a seguire la volata del Plotone per assistere alla posizione di rincalzo in terza posizione adesso andiamo a vedere chi si piazza è una volata di gruppo che assegnerà il terzo radino del podio ed è Alessandro Fiesoli davanti a Federico Marchetti Alessandro Pretolani Giovanni Bacci Luciano Pannini Mauro Paolini Domenico Inghilleri e Massimo Lari andiamo ad ascoltare le interviste realizzate per noi dal collega Vitaliano Innocenti Giuseppe Cucurnia si aggiudica la maglia di campione del mondo per quanto riguarda la categoria 5 un arrivo solitario una vittoria importante Giuseppe ma più che altro l'importante è divertirsi oggi mi sono divertito va bene così difatti ti abbiamo visto arrivare sull'arrivo non hai neanche diciamo così esaltato tanto sei un modesto anche perché poi era la prima corsa che facevo per cui non volevo neanche tirare fuori delle cose che mi sembravano fuori luogo dunque è una maglia importante che naturalmente si porta volentieri si come ricordo senz'altro divertente va bene e dopo l'impresa solitaria di Giuseppe Cucurnia ci aspetta la gara riservata alla categoria A6 maschile nella quale correranno anche le categorie donne e le categorie degli atleti diversamente abili a questo punto non ci resta che quindi seguire questa finale di questa giornata che apre i mondiali di ciclismo su strada dopo che in settimana si sono svolti i mondiali a cronometro e quindi una grande partecipazione di pubblico e di corridori anche in quell'occasione e a questo punto non ci resta che sottolineare il successo dei mondiali su strada amatori WISP a Ponte d'Era 2010 organizzati grazie anche all'impegno del presidente del comitato organizzatore Rossano Signorini dei suoi collaboratori Salvatore Leonardi e Mauro Sardelli e di tutti coloro che si sono impegnati per l'ottima riuscita della manifestazione che quest'anno ha davvero portato qui a Ponte d'Era tutti i migliori ciclisti amatoriali davvero a livello internazionale per questo titolo che vale una stagione una maglia irridata che è stata possibile grazie al patrocinio della regione toscana della WISP della provincia di Pisa del comune di Ponte d'Era e del supporto tecnico della Juventus Solari del gruppo sportivo Futura Sport dell'ASD Leonardi della S la rotta queste le società che hanno contribuito all'organizzazione mentre per quanto riguarda i partner della manifestazione da ricordare l'impegno della Eco4Service infatti questa prova è valida anche come secondo trofeo Eco4Service dal recupero dell'energia di nuova generazione una sponsor ufficiale del decimo campionato mondiale su strada Amatori WISP potete informarvi di più su questa azienda leader nel settore dell'energia e dell'ecologia sul sito internet Eco4Service.it e poi ancora il contributo della Tecno Ambiente SPA della D&D di Danese Andrea della Controlli Sicurezza Ambientale di Mauro Giardi e della Carismi Cassa di Risparmio di San Mignato questi partner di questa manifestazione che domani vedrà al via le categorie A3, A2 e A1 quelle che sono le categorie principali le categorie più inferiori diciamo dal punto di vista dell'età ma che sicuramente avranno sicuramente un grande peso agonistico e andranno a condire davvero in grande stile la giornata finale dei mondiali su strada di ciclismo Amatori WISP secondo trofeo Eco4Service qui a Ponte d'Era con partenza sempre dal centro sportivo Bellaria Cappuccini e quindi lo stesso circuito che domani sarà affrontato quattro volte mentre gli atleti che stiamo venendo inquadrati affronteranno come è successo anche per coloro che abbiamo visto in precedenza nella categoria 5 tre giri del circuito che misura 26 km a questo punto con le immagini ci siamo portati in corsa perché sono stati percorsi 13 km di gara c'è un attacco a tre vediamo con il dorsale numero 46 che chiude questo terzetto Silvano Naldoni poi risaliamo con l'83 Carlo Torri e con il dorsale 44 Giuliano Landini questo terzetto ha un vantaggio di una quarantina di secondi nei confronti dei più immediati inseguitori andremo poi a vedere la situazione alle spalle di questi atleti che stanno in questo momento salendo la breve ma sicuramente che affrontata ad un ritmo come lo stanno facendo adesso può diventare anche impegnativa salitella verso le quattro strade che sarà affrontata per tre volte come tre volte sarà affrontato nel circuito di 26 km quindi ancora alla comando vediamo in questo momento 44 Giuliano Landini alle sue spalle con il numero 83 Carlo Torri e poi dietro di loro con il 46 Silvano Naldoni lasciamo a questo punto sfilare il terzetto alla comando controlliamo la situazione alle loro spalle e adesso all'insegumento c'è un atleta la campionessa toscana Daniela Passalacqua che prova all'inseguimento si volta guadagna qualche metro nei confronti del plotone che però vediamo è segnalato con circa 50 metri di ritardo nei confronti di quest'atleta che è la più immediata inseguitrice dei confronti dei tre atleti che stanno in questo momento guidando la prova riservata alla categoria 6 alle donne e dagli atleti diversamente abili in questo decimo campionato mondiale su strada Amatory Wisp è valido come secondo trofeo Eco4Service organizzato grazie al patrocino della regione toscana della Wisp della provincia di Pisa del comune di Ponte d'Era e con il supporto tecnico della Juventus Lari del gruppo sportivo Futura Sport dell'AS di Leonardi e della S La Rotta il gruppo che vediamo in questo momento accusa un ritardo che dalla testa è segnalato nell'ordine dei 45 secondi mentre dalla controattaccante Daniela passa l'acqua e nell'ordine della cinquantina di metri adesso vediamo che stanno cercando di organizzare un inseguimento alcuni atleti sulla testa della corsa per cercare di raggiungere la controattaccante che se ne è andata proprio nel tratto finale della salita verso le quattro strade e in questo momento il gruppo si ricompatta alle spalle dei tre atleti al comando che vi ricordo sono Giuliano Landini Carlo Torri e Silvano Nardoni con i dorsali di gara numero 44 per Landini con il dorsale 83 Torri e con il 44 Naldoni si ricompatta il gruppo alle spalle dei tre al comando un gruppo che però viaggia a forte velocità allungato questo testimonia proprio la forte andatura che stanno imprimendo gli atleti nel plotone che quindi in questo momento è segnalato in rimonta nei confronti della testa della corsa che è formata vi ricordo da Landini Torri e Naldoni quindi adesso il gruppo si fraziona anche in questo tratto in falso piano il gruppo che è forte proprio a causa della forte andatura si sta frazionando vi dicevo che questi atleti sono gli atleti della categoria A6 poi ci sono insieme a loro le categorie femminili e poi gli atleti diversamente abili che partecipano a questo decimo campionato mondiale su strada Amatori Wisp secondo trofeo Eco4 Service lasciamo sfilare tutto il plotone alcuni atleti in ritardo che chiudono in questo momento la corsa riservata alla categoria A6 c'è una ragazza proprio a chiusura del plotone e a questo punto non ci resta che tornare davanti quando sono stati percorsi 41 km di gara la situazione è cambiata infatti il gruppo si è ricompattato un gruppo che però si è ridotto di unità adesso sulla testa della corsa Domenico Muccioli dorsale di gara numero 58 ma come vediamo il gruppo sta procedendo compatto abbiamo visto anche Daniela Passalacqua nelle prime posizioni di gara e vediamo ancora con il dorsale di gara 48 si tratta di Walter Diegoli lui che corre nel team Govoli e a fare l'andatura poi abbiamo con il 57 Ferdinando Benedetti questi sono gli atleti sulla testa del plotone che in questo momento è anche la testa della corsa in quanto possiamo è stata ripresa la fuga dei tre che avevano animato le fasi iniziali di corsa a questo punto quando mancano 30 km alla conclusione il gruppo viaggia compatto e si prepara ad affrontare l'ultima parte di gara quella che verosimilmente sarà decisiva nell'assegnazione della maglia di campione del mondo e saranno tre le maglie assegnate in questa categoria in questa prova quella riservata alla categoria 6 quella riservata alla categoria femminile e quella riservata alla categoria per gli atleti diversamente abili vediamo un terzetto leggermente avvantaggiato nei confronti del gruppo ma il gruppo è vicinissimo e quindi possiamo parlare davvero di gruppo compatto mentre Walter Diegoli fa ancora l'andatura sulla testa del plotone che si è frazionato in questo tratto proprio grazie al forzing di Walter Diegoli ma possiamo parlare ancora di gruppo compatto vi dicevo che questa manifestazione oltre ad avvalersi del patrocino delle istituzioni come la regione toscana la WISP la provincia di Pisa e del comune di Ponte d'Era si avvale della collaborazione tecnica del supporto del gruppo sportivo Juventus Lari del gruppo sportivo Futura Sport dell'AS di Leonardo e dell'AS la rotta società al fianco della organizzazione del comitato organizzatore Ponte d'Era 2010 decimo campionato mondiale su strada Amatori WISP secondo trofeo Eco4Service il principale partner della manifestazione a questo punto ci spostiamo sul traguardo per attendere la conclusione della prova e a questo punto non ci resta che aspettare gli atleti che abbiamo lasciato compatti un gruppo compatto quando al traguardo mancavano 20 km alla conclusione a questo punto stiamo attendendo notizie proprio sul traguardo per capire chi potrebbe essere a vestire queste ultime maglie irridate di questa giornata dopo che sono state assegnate le maglie nella categoria 4 a 5 a questo punto non ci resta che attendere la conclusione dell'ultima gara in programma nella giornata di sabato e poi appuntamento alla giornata di domenica seguiremo le gare della giornata di domenica il giorno successivo ed è un arrivo solitario quello di Walter Diegoli che va a vincere la prova riservata alla categoria a 6 quindi successo assoluto è nella categoria a 6 in seconda posizione transita in questo momento arriva ancora in solitaria Silvano Naldoni che chiude in seconda posizione convinto di aver colto il successo però per lui solo un secondo posto comunque un appiazzamento importante perché sul podio di questa importante manifestazione internazionale adesso la volata per il terzo posto appannaggio di Giovanni Anfuso in quarta posizione Carlo Torri quinto Antonio Bellet per quanto riguarda le categorie femminili il successo è andato a Cristina Maria Nisi in seconda posizione Daniela passa l'acqua per quanto riguarda le categorie dei diversamente abili maglia di campione del mondo vestita da Emanuele Arduini davanti a Roberto Martignani José Bastia Michele Rosa e Paolo Ferrali che chiude in quinta posizione quindi si conclude la giornata di sabato dei campionati mondiali amatori su strada Wisp qui a Pontedera un grande successo organizzativo ha visto al via atleti provenienti da tutte le nazioni e una grande partecipazione di pubblico a questo punto andiamo ad ascoltare le interviste realizzate al termine dell'ultima prova quella che ha visto il successo di Walter Diegoli nella classifica assoluta e la vestizione anche della maglia nella classifica A6 Walter Diegoli sarebbe il vincitore di questa bellissima maglia che sta indossando della categoria A6 dunque dall'Emilia in Toscana per riportare questa maglia una giornata importante Walter importantissima specialmente qua in Toscana dove non sbagliate mai a fare le corse sempre una più bella dell'altra non è la prima volta ho avuto la fortuna di dirigere anche un italiano in Toscana e secondo me percorsi per noi ciclisti amatori bellissimi e che vale la pena venire a farlo per quanto riguarda la categoria donne siamo con Maria Cristina Nisi proviene da Empoli dunque una Toscana che si scinge della maglia ridata soddisfatta Maria Cristina? io sono soddisfatta però tengo a precisare che corro con una squadra di Empoli ma vengo da Grosseto è la mia città natale diciamo in modo sempre Toscana sei certo sì sì è stata una corsa molto combattuta poi Daniela insomma è forte e sa correre è un bel motore insomma io sono stata proprio fiera di aver corso con lei e aver tirato fuori tutta me stessa insomma Emanuele Arduini vincitore della categoria diversamente abili dunque Emanuele una bella vittoria una bella vittoria qui a Ponte d'Era ma nell'anno quante corse hai vinto? questa qui è la seconda corsa che vengo consecutivamente l'ho vinta anche l'anno scorso quest'anno non pensavo di fare il bis perché ho avuto una caduta e si vedono ancora un po' di segni niente ho vinto in tutto dieci corse quest'anno perché faccio anche i ciclamatori eccoci qua e con questa maglia che si riporta a casa ecco i 400 chilometri che ho fatto oggi per venire a correre bene così Rox un nome breve per camminare più a lungo Rox un nome breve per volare sempre più in alto grazie a tutti